La sostenibilità è nessuno escluso. La sostenibilità è pensare alla qualità della vita dei nostri figli. La sostenibilità è equità sociale, è il rispetto dell'ambiente, è il rispetto delle generazioni presenti e future, è l'imprescindibilità di lasciare a chi verrà dopo di noi quello che noi abbiamo trovato, possibilmente anche migliorandolo. La sostenibilità è la possibilità di fare e deliver vaccini a un prezzo che è affidabile. La sostenibilità è il miglioramento tra il sviluppo tecnologico e la protezione del nostro ambiente. La sostenibilità è il miglioramento della qualità della nostra vita e il miglioramento della qualità della natura.